Il CEM di Viara Mazzini si continua a protestare, i genitori chiedono di rivedere la posizione della regione e di scongiurare la chiusura di questa eccellenza. Allora, chiariamo una cosa. La regione Lazio vuole e sta salvando il CEM di Viara Mazzini. Lì c'è un problema della Croce Rossa che rispetto a un palazzo che ha problemi di stabilità ha avanzato una richiesta di aiuto che la regione ha assolutamente raccolto dicendo che se si vuole rimanere lì bisogna metterlo a norma perché altrimenti si va contro la legge o altrimenti noi siamo pronti a salvare il CERMA da superindipendenti e dall'altra parte della strada mettere a disposizione gratuitamente un padigliore. Quindi noi siamo intervenuti per salvare una struttura che altrimenti rischia. Quindi è questo il punto. Con questo bisogna essere molto chiari.